Nice to meet you, Pietro, Sabina, sei 57. Bene, buonasera, benissimo, buonasera. Primo concerto che erano in stanza? Io non vado al concerto, però mi piace questa atmosfera molto bella, sempre giovane, nel senso sempre piena di sicuro. Come dicono loro, siamo in un gruppo più contemporaneo che esiste, più rock, più contemporaneo, cioè sente la contemporaneità. Io sono qui per fare una performance, mi chiamo Pietro Gorini, e sto cercando di conoscere nel tempo di apertura del concerto 100 persone sconosciute alle quali stringerò la mano. Secondo me che la può fare. Ok, speriamo. Buon lavoro, ciao. Grazie, salve. Ciao. Compro bichetti, compro. Ciao Flavia, sei il 58, il 58 di questa performance. Sto cercando di conoscere 100 persone sconosciute, quindi stringendo loro la mano, che è il numero 58. Spero che possa significare qualcosa per il tuo futuro. Esatto, esatto. Buona musica, buona serata. Grazie a tutti. Grazie.